Amici sportivi ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento così dedicato al mondo dello sport di casa nostra ma questa sera sconfiniamo parliamo non solo di sport a livello nazionale internazionale ma abbiamo l'onore e il piacere di ritrovare nei nostri studi il primo e unico pilota italiano in grado di vincere per due volte il campionato del mondo di rally non ha bisogno di grandi presentazioni perché lo conoscono tutti dall'Africa fino alla Norvegia Miki Biasion buonasera Miki buonasera a tutti grazie dell'invito è un piacere essere qui con voi allora come detto due volte campionato del mondo primo pilota e unico a vincere italiano il safari rally detiene il record di vittorie nel rally sanremo grazie ai suoi successi dall'87 all'89 insomma è nella hall of fame servirebbe una puntata solo per raccontare un po' i successi e il curriculum del nostro Miki Biasione noi in realtà Miki questa sera parliamo un po' di curiosità qualche anedoto su di te che magari non tutti conoscono anzi pochi conoscono quindi attenzione sarà molto stuzzicante questa puntata e poi dobbiamo parlare chiaramente del rally meeting di Vicenza che insomma è pronto a partire detto questo come si vuol dire partiamo dall'inizio l'inizio è il 7 gennaio 1958 quando a Bassano del Grappa nasce il piccolo Michele Biasione ma qui c'è già la prima diciamo curiosità della tua carriera perché sulla carta di identità in realtà c'è scritto Massimo Biasione tutto dipende da un piccolo errore della nonna raccontaci cosa è successo per vari motivi è andata in comune mia nonna a dichiarare la nascita però non si ricordava il nome i miei volevano il nome Michele e mia nonna non ricordava il nome mi ha battezzato Massimo no battezzato sì mi ha nominato Massimo e però i miei genitori mi hanno sempre chiamato Michi fin dalla nascita quindi sono Michi per tutti però sui documenti sono Massimo ho qualche problema negli aeroporti perché qualche volta infatti delle aziende mi fanno mi fanno il biglietto come Michi Biasione e poi invece lì arrivo col biglietto col passaporto Massimo ho qualche problema ma in quel caso racconti tutta la storia no insomma non no ma però devo farmi rifare il biglietto ogni volta ma le curiosità gli aneddoti sulla giovinezza diciamo il periodo in cui Michi si è innamorato del rally insomma della velocità in cui ha iniziato a diventare veramente voglio dire quasi il terrore dei contadini qui della zona ci sono tanti aneddoti su questo periodo perché ci riferiamo a quando lui da ragazzo guidava di nascosto la Renault 4 della mamma cosa succedeva in quel periodo ma al tempo i miei genitori avevano un supermercato e mi era concesso la domenica col supermercato chiuso di guidare la Renault 4 con la quale portavano le spese nelle famiglie e dopo una serata passata allo stadio mercante a vedere l'Ollertoni che andava su due macchine con mio cugino capotai rovinosamente cercando di fare l'Ollertoni e oltre a queste cose ogni tanto riuscivo a fare le scappatelle per i campi al tempo dopo il viale Venezia era prateria e quindi si poteva si potevano ancora fare le scorribande però i contadini dicevano se mi vieni addosso al trattore se mi vieni di conseguenza i miei genitori mi vietarono assolutamente di guidare ancora la macchina e dovete aspettare i famosi 18 anni per fare la patente. hanno praticamente bloccato hanno multato Michi Biasione voglio dire qualcosa di assolutamente straordinario considerando il fatto che oltretutto la mamma non era totalmente strana diciamo al mondo dei motori in quanto detiene anche lei un record particolare. effettivamente mia madre è stata la prima donna nel Veneto a fare la patente dell'automobile quindi lei aveva la passione delle automobili mi portava anche a vedere il rally di Monte Carlo quando transitava per il viale delle fosse di Bassano negli anni a inizio anni 70 quindi era appassionata ma non avrebbe mai pensato che io intraprendessi la carriera del pilota è carino perché dovetti convincerla quando diventai professionista ad abbandonare gli studi universitari per un piccolo periodo per dire guarda faccio il pilota poi con quello che guadagno mi apro il mio ufficio e poi invece non ho più preso diciamo il cartografo in mano ma pensi sempre solo col volante. Insomma storie che poi tutti conoscono da lì in avanti da quando Michi è diventato professionista ha inanellato una serie straordinaria di successi che ci emozionano ancora adesso quando rivediamo le immagini o quando insomma ripensiamo a quegli straordinari traguardi ho nominato rivediamo le immagini e la regia prontamente insomma ci accompagna in questo viaggio proprio con alcune delle immagini più belle della lunga straordinaria carriera del nostro Michi Biasione carriera che prima di diventare appunto professionista Michi mi ricordo che nel 78 se non sbaglio iniziasti con i cosiddetti rally clandestini quelli che insomma si facevano in alto piano anche quella è una pagina di storia che merita di essere raccontata. Sì non li chiamerei proprio rally clandestini erano rally abusivi perché non avevano la vidimiazione della federazione però si risapeva tra virgolette che c'erano queste gare partecipava anche qualche equipaggio delle forze dell'ordine quindi anche da quel punto di vista legale avevano una piccola protezione eravate protetti ma non disturbavamo nessuno perché viaggiavamo nelle strade del Monte Grappa e dell'alto piano di Asiago da mezzanotte alle 6 del mattino quindi al limite qualche capriolo si spaventava ma neanche ed è iniziato lì e l'organizzatore pensate era proprio il mio navigatore Tiziano Siviero ed è lì che è nata la mia carriera perché ho conosciuto Massimo Frigo e vari amici che poi mi hanno aiutato dall'inizio della carriera da Alessandro Bordignon, Antonio Fettracco, Lino Fantina, tutti i ragazzi del team dell'Hawk Racing Club che era la scuderia di Bassano che seguiva il mondo dei rally e da lì grazie al loro aiuto ho avuto questa mia carriera fortunata, molto fortunata perché sappiamo che nello sport ci vuole innanzitutto il talento, lo spirito di sacrificio ma anche quel pizzico di fortuna di essere come dire nella squadra giusta al momento giusto. Michi hai nominato perché insomma in quel periodo che nasce anche la vostra amicizia hai nominato Tiziano Siviero che insomma conosciamo tutti e che è stato protagonista di un drammatico incidente all'isola d'Elba proprio qualche mese fa, un incidente che stava per costargli la vita tutta la comunità sportiva e non solo del Bassanese ma di tutta Italia insomma si è stretta attorno a lui tu sei corso immediatamente a vedere come stava e come procedeva anche la riabilitazione adesso Tiziano sta leggermente meglio quindi diciamo che è fuori pericolo però vorrei un tuo commento su un momento sicuramente drammatico emotivamente parlando sì beh effettivamente se penso che con Tiziano abbiamo fatto degli incidenti spettacolari in tutti i paesi del mondo senza nessuna conseguenza, essere per strada nella via di casa ad essere tamponato da un automobile, lui era in moto purtroppo, ha avuto subito dei problemi dei gravi problemi alla colonna vertebrale con fuoriuscita di midollo e adesso dopo 4 mesi abbondanti dall'incidente sta facendo una riabilitazione in un centro specializzato dove sono stati tantissimi piloti, tantissimi sportivi e comincia questa terapia quasi a livello militare, comincia a dare dei risultati che ci fanno essere ottimisti nel senso che lui comincia già a muovere un pochino le braccia il collo e la testa e speriamo che questo influsso positivo venga trasferito anche nella parte inferiore del corpo che per il momento non dà grandi soddisfazioni, chiamiamole così Ci abbracciamo tutti, ci stringiamo tutti chiaramente attorno a lui gli auguriamo di tornare quanto prima a stare bene perché siete una coppia iconica per quello che riguarda lo sport ma dietro ci sono storie di vita, storie di grande amicizia noi adesso andiamo avanti, torniamo a parlare di sport in un certo qual modo, anche in questo caso di un rapporto speciale il tuo rapporto con l'Africa, perché abbiamo parlato del safari rally abbiamo visto anche qualche immagine qual è il tuo rapporto con quel continente, con quella realtà? Io adoro il continente africano soprattutto per la natura, per la sensazione che ti dà di libertà e in un certo senso di impotenza di fronte a questa natura travolgente agli animali, alle foreste, a tutto l'insieme che questo continente meraviglioso trasmette per chi riesce anche a capirne un po' i piaceri e anche il rispetto soprattutto e il destino ha voluto che io fossi l'unico pilota italiano ad essere riuscito a vincere la gara più importante dell'Africa che era il safari rally, forse anche la più importante del campionato del mondo in quegli anni, era il safari rally in Kenya era una gara che il gruppo Fiat aveva tentato per quasi 20 anni di vincere e poi con Tiziano l'abbiamo vinto per due anni consecutivi quindi una grandissima soddisfazione nel corso delle ricognizioni abbiamo anche salvato la vita a un elefante che era finito nelle sabbie mobili abbiamo lavorato tutto un pomeriggio con delle corde e delle funie agacciandolo ad un mezzo di assistenza quindi grande soddisfazione anche da quel punto di vista di aver salvato la vita a un animale così meraviglioso ma poi una volta smesso di fare i rally dopo un anno ho voluto tornare in Africa facendo la Parigi Dakar quindi non più nell'Africa dell'Est che è in Uganda e Tanzania e bensì nell'Africa del nord ovest quindi il Marocco, il Mali, la Mauritania, Burkina Faso, il Senegal diciamo che l'ho viaggiata in lungo e in largo sia per le competizioni, ci sono andato anche in vacanza nel Sudafrica, in Namibia, Botswana, Zimbabwe è un continente che mi ha sempre affascinato e come si dice, quando uno prende il mal d'Africa è una grande verità Assolutamente, adesso però voltiamo pagina e parliamo di stretta, strettissima attualità perché? Perché tutto è pronto per il rally meeting di Vicenza dal 3 al 5 febbraio al polo fieristico un evento straordinario mentre ne parliamo, chiedo alla regia di mandare anche le immagini del promo di questa importantissima manifestazione eccole qui, Michi un rally meeting che è nato sostanzialmente qualche anno fa a Bassano, in un padiglione poi è esploso quest'anno si lavora veramente su una metratura incredibile e si celebrano anche i 60 anni del campionato italiano di rally Sì, il rally meeting è nato 3 anni fa a Bassano come scommessa, come rimpatriata o una festa tra appassionati del mondo dei rally dopo il successo appunto di questa prima edizione che è stato proprio l'ultimo weekend pre-Covid abbiamo saltato un anno e l'abbiamo rifatta l'anno scorso ma visto la richiesta numerosa dei vari appassionati ci siamo trasferiti l'anno scorso a Vicenza e l'abbiamo fatta in un piccolo padiglione di 4.000 metri dove abbiamo avuto anche lì un ritorno di pubblico incredibile però è stata una mossa statica e da lì ho deciso che il rally meeting deve essere la mia prossima missione e quest'anno ho preso il padiglione 7 della Fiera di Vicenza che è il padiglione più grande dove hanno fatto anche Vicenza ora ultimamente e grazie alla collaborazione sia dell'ACI Vicenza che di ACI Sport di Roma faremo tra venerdì e sabato le premiazioni di oltre 1.000 piloti di tutte le specialità automobilistiche e quindi tra i vari stand degli espositori gireranno oltre un migliaio di piloti quindi per il pubblico ci sarà l'opportunità di vedere o di farsi l'autografo, la fotografia dei selfie e questo è già un grandissimo risultato perché l'ACI Sport di Roma dare a noi l'opportunità e anche l'onere di organizzare questa cosa è stato un onore ma anche sicuramente un grande impegno ma oltre a questo a differenza degli anni scorsi saremo su un padiglione poi di 15.000 metri con oltre 80 espositori che andranno in tutti i settori non solo nel mondo dei rally ma anche nel mondo dell'automobilismo sportivo perché avremo anche vetture da pista da salita e poi una chicca che è un tentativo ma sicuramente attirerà moltissimo i giovani moltissimo pubblico faremo delle esibizioni esterne non ci sarà competizione ma ci saranno sabato e domenica delle esibizioni con le auto da drifting ma anche con i campioni italiani ed europei di drifting ma anche auto da rally sia moderne che storiche con grandissimi campioni che faranno spettacolo dalla mattina al tardo pomeriggio per far divertire gli appassionati per far sentire ancora il rumore delle gomme che stridono e dei motori che suonano che cantano perché per me il rumore di un motore è un canto è una sinfonia straordinaria oltretutto se non sbaglio ci saranno anche le 60 automobili che hanno vinto i vari campionati italiani di rally Sì, ecco, tra le varie cose ma ce ne sono a decine l'anno scorso c'è stata una mostra abbiamo organizzato una mostra sulla storia del Martini Racing che ha avuto un successo incredibile che hanno detto che anche alle fiere di Parigi di Londra non si era mai visto niente del genere quest'anno festeggeremo o celebreremo i 60 anni del campionato italiano rally il campionato italiano rally è nato a inizio anni 60 e quindi 62-2022 metteremo in esposizione tutte le vetture ci stiamo provando ma sicuramente ci riusciremo che hanno vinto e hanno partecipato al campionato italiano rally quindi, non so, dalla Fiat 1100 alla Giulia, alle Fulvia, alle Stratos fino ad arrivare alle Subaru, alle Skoda e alle Citroën dei giorni nostri con i piloti che hanno vinto quindi ci saranno anche lì oltre 30 piloti che gireranno tra le macchine che gli hanno dato questo titolo e quindi grande soddisfazione anche da questo punto di vista e grande attrazione per gli appassionati e non Appuntamento quindi da non perdere è tutto per questa puntata di Sport in Casa una puntata speciale come speciale è il nostro ospite il due volte campione del mondo lo ricordiamo perché fa sempre bene ricordarlo è un orgoglio veneto è un orgoglio italiano Michi Biasion grazie per essere stato con noi grazie a voi vi aspettiamo allora alla mostra dei 60 anni rally con la grappa Bassanina assolutamente per tutti i piloti e poi esibizioni sabato alla domenica grazie a tutti grazie alla regia appuntamento a domani sera grazie a tutti